Gabri, non sai che cosa faremo oggi? Porca puzzatona! Oggi faremo Minecraft ma tutto al contrario Infatti qua ho un sacco di blocchi di diamante Perché blocchi di diamante? Sì Perché praticamente prima bisogna avere l'armatura in diamante Perché ovviamente su Minecraft cos'è che si ha per Ultima cosa l'armatura in diamante In realtà quella di nederite sarebbe Vabbè, vabbè, però noi la nederite non ci piace Perché è tutta marrone Ma no, è bellissima Ma insomma, quindi adesso io ti faccio, anzi guarda Ti do il privilegio di farti direttamente A te l'armatura, sei contento? Sì, sì, grazie, grazie Sono contento anch'io, tieni i tuoi diamanti Quanti sono? Eh, ma fidati che ho un blocchi e blocchi di diamante Proprio, una roba vende, vai giurda Allora Ovviamente anche gli attrezzi servono Cioè bisogna fare, no? Perché ovviamente Serve il legno, serve il legno No, tranquillo, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Ho già provveduto a tutto io Ah bene, meno male Eh sì, dovremmo usarli qualche minuti questi attrezzi E poi dopo andarcene via, andarcene a quel paese praticamente, no? Cioè nel senso, buttarli via proprio, per sempre E quindi, beh, è un po' complicato Anzi, sapete cosa? A me piace molto l'ascia su Minecraft Mi piace, però se sapessi craftare Magari sarebbe un altro modo Per poter assumersi le proprie responsabilità E ragazzi, ovviamente Posso fare gli attrezzi? Se dite un attimo che devo parlare con i ragazzi Ragazzi, ovviamente voi Ricordatevi È una cosa molto importante Cioè ricordatevi Su Minecraft Come va al contrario Cioè anche voi dovete partecipare Nel senso Com'è che va al contrario Minecraft? Eeeh Ditemelo anche voi Perché secondo me Io comunque non è che mi ricordo tutto, eh Cioè probabilmente stiamo skipando Praticamente tutto il gioco Perché siamo già Boh, non lo so È complicatissima questa roba Cioè tipo da Al contrario è molto difficile Quindi Gabri Forse vieni con me Andiamo nella Mi serve il legno Non ho gli attrezzi Ah, e tieni Bastava dirlo subito comunque Cioè proprio subitissimo Ah, e ovviamente Ricordatevi di lasciare un emoji Bella nei commenti Tipo Non c'è tipo il panino nei commenti Perché io ho fame adesso Stiamo registrando Verso l'ora di Insomma Dove bisogna mangiare Capito? Quindi Eh no, infatti Eh, abbiamo un po' tutti fame Quindi ovviamente Lasciatemi un panino Nei commenti Così mangio Quel panino Oh che bello Poter mangiare i panini vostri Eh Però qua è un po' pericoloso Sai Perché la foresta oscura In questa foresta oscura Si nascondono Gli oscuri Mob No, no Qua è meglio di no Però abbiamo l'armatura di diamante Comunque Sì Sì, sì, sì L'armatura di diamante è presente E quindi adesso in realtà Ma sai cosa? Esatto Cioè nel senso Non è pericoloso Tanto Anche se troviamo qualcuno Qualcosa Non è che succede Sì, infatti Non c'è nulla da aver paura Esatto Quindi possiamo anche distruggere I loro sederini Grassi ovviamente Perché Insomma C'è nel senso Gli zombie soprattutto Sono molto grandi E Però Insomma Sono proprio brutti Perché fanno Quindi È molto terribile come cosa No, Gabri? Sì, esatto Il mio collaboratore Dovremmo fare tipo il TG Il TG su Minecraft Allora Benvenuti Oggi Ah, però sai cosa non ho preso? Non abbiamo preso il cibo È vero Dobbiamo andare a prenderlo Per davvero questo cibo Forza cibo Lo prendo io Ok Prendi anche tu Io lo sto cacciando Lo sto Cibo? Aspetta Dobbiamo fare il richiamo del cibo Uga cibo Uga cibo Uga cibo Cibo Gabri però tu ti devi svegliare Eh, sì, sì Perché ti stai parlando solo io No, 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 no E poi stai urlando adesso Ma io te l'ho detto prima Ma come? Te l'ho detto prima Sai che te l'ho detto prima Mannaggia a te che devi scorreggere C'è un ragno C'è un ragno Eh, vabbè Se c'è un ragno Uccidilo Amica ti devo dare sempre io la manina Sì, sì, ho fatto Ho fatto Oh, e attenzione Ho trovato dei maialini Che potrò usare Per uccidere Cioè no Per uccidere i poveri maialini No Però Potrei usarli per mangiare Infatti adesso mi farò una fornace È come una vanilla Ma appunto al contrario ragazzi Infatti adesso sto per buttare Sì, però allora ditemelo Che sono deficiente un pochino Cioè un pochino sì Perché se io devo fare la fornace E poi non va E mi nervosisco leggermente Però funziona Allora, sapete cosa faccio? Via Tutto Tutto Non, a cosa sto facendo Eh, mannaggia Cosa è successo? Sto buttando tutti gli attrezzi Buttali anche tu Ma come? Perché? Anche i diamanti via È perché deve essere al contrario Secondo te perché se no? Cioè idiota Devi forza Vieni Poi dove sei finito? Dove li butto? E sono qua all'inizio praticamente Ah beh, l'importante è che non Insomma non li tieni Cioè li butti per terra Non è che li devi buttare Sì, sì, lo so Ah, ok Pensavo che dovevo buttarli nella lava No, certo Adesso vai a trovare la lava Sì, come no Eh, però adesso Possiamo farci le cose di ferro Tipo Ma l'armatura è da buttare No Gabri Mi sono messo tutto il ferro Perché avevo un sacco di blocchi di ferro Vieni qua Sì, dobbiamo farci il piccone di ferro La spada di ferro Ragazzi Stiamo dicendo bene Perché io non mi ricordo molto bene Cioè nel senso È un po' Una cosa un po' pericolosella, no? Cioè Magari dico Non lo so Magari mi sto scordando completamente tutto Per dire, no? Cosa sto facendo? No, 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 ragazzi Che è successo? Stai zitto Io sto avendo un delirio di stranezza Perché non so perché Non riesco a fare l'armatura Ok, perfetto Ecco, bravo Bene Non hai buttato Eh, la devo buttare Sono arrivato adesso Guarda che Ah, ok, perfetto No, perché se devo buttarla solo io Così non vale No, no, la sto buttando Ci mancherebbe altro che non la butti Dici, no, adesso non la butto, eh Eh, ma mutati Sì, ma cos'era quello? Un demone Degli altri cieli Altre cieli Che non so cosa siano Eh, Gabri Velocce Craftati le cose Che non abbiamo il tempo da perdere Eh, io dove me lo prendo il ferro Ah, giusto Te lo do Te lo do Il ferro, ovviamente Eh, grazie, grazie Molto E anche il legno ti do No? No È nella fornaccia Tanto ne ho ancora Esatto, esatto Te l'avevo già dato Stupido, ignorante Eh, ma perché io tengo No, queste cose non devo tenerle Allora, gli occhiali Io non li devo tenere Perché tanto sono solamente per riposare la vista Gli occhiali Dovete sapere questo, ragazzi Gli occhiali miei sono solo per riposare la vista Porca puzzardona schifosa Scurreggiona Maialona Ma povera Povera no Povera no E poi stai Perché stavi parlando basso? Ma come? Hai detto povera basso? Cioè Prima stavo urlando Adesso parlavo basso Sì, proprio così Infatti Ti faccio vedere Quanto L'inconsapevolezza Di ciò che fai È presente Cioè nel senso È come È presente per la tua parlata È presente un po' per tutta la tua vita Sì, sì Però sto prendendo le mucche Sono contento Sai perché Così le mucche Il cibo Tutto quanto Possiamo farci tutto Però ragazzi A me piacerebbe Nella 1.17 Avviare una nuova vanilla Perché a me piace molto Minecraft Così Cioè mi piacerebbe Poi dopo si fanno nuove cose Sarebbe bellissimo Eh sì, sì Però chissà quanto manca ancora Beh esatto Mancherà un sacchissimo di tempo E Ci sono da fare Le montagne Poi dopo le caverne E poi dopo Ci sono da aggiungere i minerali Che sono già stati aggiunti Un po' di tempo fa E poi dopo Ci sono da aggiungere Gli mob E poi dopo cos'altro Tante cose Insomma Sì, tante cose Troppe Troppe Poi vedete Insomma che Arrivano Arriva Minecraft Che si evolve Vedete proprio come Dal loro Si trasforma in diamante E poi diventa bellissimo Perché grazie a questo aggiornamento Diventerà bellissimo Perfetto Adesso Siamo esattamente A sette minuti Dobbiamo buttare il ferro Dobbiamo buttare il ferro Purtroppo Dai L'ho appena fatto Ma infatti Ma poi comunque Non stava arrivando notte Ma scusa Cioè nel senso Ma infatti Ma è bloccata Mi sa che è bloccata Vabbè Meglio così No però Sì meglio Perché se no moriamo Metti notte Metto Metti notte Perché così se moriamo Oh no però aspetta un attimo Mettimi anche la night vision Va bene Ok bene E faccio anzi Minecraft No Effect Give Oh porca puzzarda Aspetta Faccio faccio Night vision 99999 9255 Perfetto Ho fatto io Sei stupido Ho fatto prima io Ah 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 No no ma faccio Me la metto pure io Ah ok 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 Però non fare con Con la tastiera Stupido ignorante Che non sei altro Ma come Non l'ho fatto Sì lo stai facendo ancora Ma come Sto Premendo piano Si sente Si sente Si sente comunque Perché la tua tastiera Ha un dito Chissà dove però Ma cosa Vabbè La povera L'adoro io Insomma Tu la adorerai Ma i suoni Non sono per niente belli È come quando arriva Un signore che scorreggia Le fa Ma cosa Proprio così Identico Praticamente Lo vedi proprio lì Che si sta pure cagando addosso Questo signore È terribile come cosa Eh sì sì Eh E a te capita spesso Vero di trovare questi signori Perché la tua tastiera Li attira Ma poi scusa Se io sto cercando Uno zombie Che devo uccidere Non è uno lì Ah ma tanto Ci sono i creeper qua Che sono 20 volte più forti Degli zombie Non è così Ragazzi Qual è il vostro mob Preferito Cioè preferito Nel senso Quello più complicato Per voi su minecraft Fatemelo sapere Perché anzi Adesso metto anche La musica più alta Perché era tipo bassissimo Non si sentiva niente Sto per morire Eh gabri non morire No gabri non morire È ormai Sei morto Sei morto È sì Inbecile Devi stare attento Quando giochi a minecraft Perché Non so se lo sai Ma io sono un grande esperto Di minecraft Io ci gioco dalla 1.8.1 Non sto scherzando ragazzi Davvero 1.8.1 Mi pare Sì Credo di sì Sono abbastanza certo Di sì Però mi dava molto fastidio Quando i miei amici Del tempo Facevano tipo Tutti i sapientoni Eh Non sai fare questo Non sai fare l'altro Ma andate a cagare Comunque Ma poveri No 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 Diciamo che a scuola A volte Quando sei piccolo Soprattutto Ci sono delle persone Molto antipatiche Che ti stanno sul cavolo Per non dire qualcos'altro Però Magari non te ne rendi Conto Magari Insomma Ci sono una serie di situazioni Che Non dirò qua Perché è un video Molto bello questo Forza Gabriel Allora Slash kill Gabriel Ma ero qua No 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 Sei morto Perché ho deciso io Che dovevi morire Per forza Per forza Io quando decido Ovviamente su minecraft Su minecraft Ovviamente Cioè sono nella vita Sì 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 Eh Sì non dicevo a te Lo che arrivo nel video Perché Vabbè sì No Non si sa mai Che magari Qualcuno Vabbè Quindi ragazzi Noi adesso È stato bello Fare questa modalità Vediamo se volete vedere Altre 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 modalità Come queste Scrivetecelo nei commenti È importante Lasciate like Iscrivetevi al canale Attivate le campanelline Per i prossimi video E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ciao Ciao